Ci siamo. Parti. Parti in controtempo Feritropria, in coda al gruppo, dal quale emerge come da copione Arabian Divius su Dr. Psycho. Piave per via interne, di fuori Pirrone a prendere posizione, anticipando Parnassus per via interne Ontie Ems. Nel cuore del gruppo abrasivo Moraz e Wonka, più dietro Patto d'Acciaio e Cernobbio. Insieme alla Dama del Vento, Feritropria rimane più arretrata rispetto al resto del gruppo di almeno una decina di lunghezze. Arabian Divius è leader, sempre in maniera spedita, al secondo posto Dr. Psycho in giubba marrone, al terzo Piave in giubba gialla, col cap blu scuro invece Pirrone. Ontie Ems all'interno in giubba verde col cap rosa sulla giubba bianca a pua rossa di Wonka. Più dietro abrasivo con la giubba cremisi e marrone a cerchi, Parnassus in fucsia, la Dama del Vento col cap verde col parocchi segue Patto d'Acciaio. Più dietro Cernobbio con Moraz e Feritropria che rimane in coda ma ha stretto contatto rispetto a quanto lo fosse in precedenza. Retta d'arrivo Arabian Divius, sempre Battistrada, prova a ripartire, passato il paletto degli 800, Dr. Psycho si fa a tregnare su Piave che è sempre terzo. All'interno Ontie Ems, poi a largo Pirrone, abrasivo recupera Patto d'Acciaio, poi Cernobbio e Parnassus per corsie larghe che provano a recuperare. Più dietro Feritropria che va per Varchi in coda la Dama del Vento che perde terreno. Ai 400 c'è sempre da andare a prendere Arabian Divius per Dr. Psycho che è sempre secondo. Piave cerca di rimanere in quota, abrasivo che avanza, Feritropria a largo di tutti per via interna Ontis Ems. E sempre Arabian Divius in vantaggio, Feritropria che si concretizza all'ultimo Farnung, all'attacco del leader. Poi anche Patto d'Acciaio, Feritropria, Arabian Divius e Patto d'Acciaio se la vanno a giocare. Arabian Divius attaccato da Feritropria di fuori nell'ultimo tratto, Feritropria, Arabian Divius in linea. Davanti a Patto d'Acciaio. C'è bisogno del replay stretto sul massi schermo tra Arabian Divius all'interno e Feritropria a largo. In un arrivo veramente spettacolare. E qui sembrerebbe a largo ma chiaramente il verdetto è tutto il giudice d'arrivo.